mi spenca yes, yes , yes what? i got it all used in my career and jobs all out in Pakistan so what? what a plan is that? Tu mi piace? Mi piace la sua prima cosa. Per questo è il mio personaggio. Ora è la sua prima volta. Per adesso la sua 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 prima volta. Questa è la sua sua prima volta. Ciao Wow, questo film è abbastanza abbastanza! Ok, andiamo! Quattro! Quattro! Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì. Sì, 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 Sì. 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 Sì, Sì. 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 Sì, Sì. Sì. Sì.